Ciao a tutti raga, sono in garage, ho appena tirato fuori la C, mi metto alla luce, siccome ce l'ho da un mese, volevo dirvi e raccontarvi un po' come mi trovo e i miei pareri, andiamo! Allora, prima di tutto volevo farvi vedere, ho appena tirato fuori la macchina, cioè l'ho appena accesa e guardate com'è fredda, addirittura mentre facevo la prima parte del video si è scaldato un po', prima se non sbaglio era 16 l'olio e 20 quello del cambio, l'olio del cambio, ora siamo a 33-23 ed è molto fredda, ricordatevi sempre di farle scaldare e questa cosa mi piace della Mercedes perché vedete, ora ho messo i numerini in blu che indicano che la macchina è fredda, invece quando la macchina si scalda diventano grigi. Allora raga, sono venuto proprio dietro casa anche perché con il coronavirus dovremmo evitare maggiormente di uscire e di frequentare posti affollati, infatti qua è un po' abbandonato, non c'è proprio nessuno, sono venuto qua apposta. Prima di tutto volevo dirvi che esteticamente mi piace tantissimo, ha una linea secondo me che è pazzesca, veramente, molto aggressiva ma anche elegante per certi versi. La macchina inoltre è stata ricoperta completamente dal primo proprietario con il PPF che non so se riuscite a vedere, ecco, vedete qua che c'è la riga? È tutta col PPF, completamente protetta, infatti sono molto contento di questo. Il posteriore mi piace un sacco, è bellissima, veramente. Poi il sound secondo me è la ciliegino sulla torta di questa macchina. Come vi dicevo poco fa, la macchina è ancora fredda. Questa macchina per scaldarsi ci mette... per scaldarsi bene ci mette 20-25 minuti. Quindi appena uscite dal box dovete andare molto piano, in comfort per farla scaldare. Come comodità gli interni sono fantastici perché abbiamo questo vano porta oggetti che io metto dentro chiavi, fazzoletti, caricatore del telefono e è bello grosso e profondo, cioè ci sta un sacco di roba qua dentro. Poi questo... metto le chiavi della macchina e poi metto a volte il telefono quando devo mettere, non so, il navigatore piuttosto che la musica che voglio cambiare, anche se posso fare tutto da qua, eh. ma comunque mi è comodo tenerlo lì. Poi con questo carbonio secondo me esteticamente il tunnel centrale, la plancia, come vogliamo chiamarla, è fantastica. orologio IVC, bocchette dell'aria, io le tengo rigorosamente dritte, perfette, tutte quante, assolutamente. Mi dà fastidio vederle... vederle sorte. Un'altra cosa che mi piace tantissimo degli interni è il cambio messo qua dietro al volante. Praticamente, guardate, per mettere in D io devo tirare giù e vedete è in D. Per mettere in N tiro su una volta, per mettere in retro tiro su tutto e ora c'è la retro. Questo bottone qua e la macchina si mette in P. Poi qui abbiamo, che è figo secondo me, quando vado in race, che magari spingo un pochino, guardo sempre qua dati del motore, tac, e mi fa vedere i newton metri, che è la coppia, e le temperature dell'olio e dell'olio del cambio. Allora, qui abbiamo il manettino, io lo chiamo così ma non è il manettino, si chiamerà in un altro modo. Per spostarsi da comfort, sport, sport plus, race e poi c'è individual, che non lo metto mai. Metto sempre o comfort o race. Qui, adesso, in race, io l'ho settata che ha il controllo in sport, vedete, sport handling mode. Invece, se teniamo premuto, diventano off, cioè il controllo diventa off. Invece, se schiacciamo, possiamo ottenere race con il controllo di trazione, vedete, ESP, mannaggia, in on. Quindi attivo. La macchina scappa molto meno. A proposito del controllo di trazione, questa macchina ha 510 cavalli trazione posteriore. Raga, se togliete i controlli e mettete in race, appena schiacciate l'acceleratore, a parte che anche se siete dritti, la macchina pattina e dovete tenerla. Ma se siete in curva e schiacciate un po' di più l'acceleratore, la macchina si gira completamente. Cioè, è una roba pazzesca. Io non avevo mai avuto macchine trazione posteriore prima di questa. Devo ammettere che il divertimento che danno non lo dà nessun'altra macchina. Cioè, le cose che puoi fare, i numeri che puoi fare con questa macchina sono spettacolari, veramente. Ti diverti tu e fai divertire anche gli altri che guardano e soprattutto i passeggeri. Ogni tanto ho portato qualche mio amico a fare un po' di curvette e ci siamo divertiti abbastanza. Con la pioggia, invece, è meglio non usarla assolutamente. Io la lascio sempre in garage quando piove. Uso il Panamera, bello tranquillo, 4x4, perché questa qua, ragazzi, quando piove è una roba incontrollabile, veramente. Ah, e in quarta, a 180, pattina ancora la macchina. Cioè, è una roba folle, veramente, fuori di testa. Io non me la sarei mai aspettata così. Infatti è la rivale dell'M4, no? Chi vuole divertirsi o compra questa o compra l'M4, magari la Giulia, anche se è un po' più familiare. Secondo me questa per un ragazzo è top. Cioè, come me è top. O anche per un uomo, un signore che si vuole divertire il weekend. Chi mi segue su Instagram sa che pochi giorni fa ho messo delle storie dove dicevo, tanto la spengo, dove dicevo che la macchina l'ho messa in vendita. L'ho messa in vendita dai miei amici di Magna e Carnevale. E tutti, perché la vendi? Non ti sei trovato bene di qua e di là? A parte che l'ho scritto perché la vendo. Ora ve lo spiego un po' meglio. Cambio genere di auto. No, non comprerò un SUV, non comprerò un'altra berlina. Comprerò una supercar, due posti secchi. Quindi, niente, ho trovato il modello che mi piace, ho trovato la supercar che mi piace. Sto trattando e vedremo se riesco a portarla a casa o no. Spero proprio di sì. Se tutto va come deve andare dovrei riuscire a portarla a casa. Quindi, ho messo in vendita questa, perché non la userei. Cioè, a parte che faccio il cambio. Certo, l'altra rispetto a questa sarà più scomoda. Non posso andare in giro con gli amici, a parte uno. Non potrò farci i viaggi. Cioè, in realtà, volendo sì. Però, star via due settimane... Cioè, pensare di andar via per due settimane o una settimana con un baule del genere, dove non ci sta niente, è difficile. Cioè, ti puoi andare via il weekend, no? Detto questo, tutti gli aggiornamenti sulle auto... Ah, no, scherzavo. Manca il Panamera. Il Panamera portato a fare il pop and bang. L'hanno fatto. Sono andato a ritirarlo. Faceva degli scoppi che in confronto una RS3 non li fa. Fortissimi. Tirava di quelle botte una roba, raga, folle. Io non avrei mai pensato che riuscisse a fare quel rumore lì. È veramente folle, 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 folle. Io non avevo mai sentito una macchina con un pop... con un pop and bang del genere. Comunque, sfiga vuole. La ritiro. Vado piano. Torno a casa. Vado a provarla in una via libera dietro casa. Accelero. La macchina non andava. Cioè, andava. È entrata in protezione. Mi faceva lo 0-100 in 8 secondi. Quando lo fa in 3-7, 3-8 ho detto, c'è qualcosa che non va. Chiamo subito all'istante dove ho portato a far fare il pop and bang. E mi ha detto, riportala di qua e di là. Bene, ora la macchina è ancora là da due settimane. Prima si sono rotti dei tubi dell'acqua. E ok, li hanno sostituiti e tutto. Poi hanno detto che i catalizzatori si sono bruciati. O danneggiati, insomma. Adesso hanno ordinato i catalizzatori e me li sostituiranno. Ovviamente faranno tutto loro. Quindi niente, sto aspettando il Panamera che torni normale. Venderò questa e prenderò l'altra. Bene, questi erano gli aggiornamenti sulle macchine. Adesso, raga, volevo scambiare due parole. Io e voi potete scrivermi nei commenti. Anzi, ve lo chiedo, per favore, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate del coronavirus. Visto che adesso c'è questo virus in giro, covid-19. Io abito a Milano. La Lombardia è stata chiusa. Lunedì, cioè oggi, sarei dovuto uscire. Sarei dovuto andare a Monaco, ma non sono andato, ovviamente. Lombardia, zona rossa. Non si può entrare, non si può uscire. Bisognerebbe stare il più possibile a casa, non frequentare luoghi affollati come centri commerciali, parchi dove c'è tanta gente, cioè non bisogna stare vicino ad altra gente. tenere un metro di distanza l'uno dall'altro. In sostanza, bisogna evitare l'assembramento di persone il più possibile. Io sono stato in casa tutto il giorno e penso che farò anche domani così. Sono venuto qua, ma vi ho fatto vedere, non c'è nessuno, poi chiuso in macchina comunque. Vabbè. E niente, insomma, sono un po' demoralizzato da questa cosa. Non me l'aspettavo. Qualche giorno fa non mi sarei mai aspettato che addirittura chiudessero la Lombardia. E quindi è un po' una situazione del ca. Mi raccomando, se siete anche voi di Milano, della Lombardia, se anche la zona dove abitate è zona rossa, seguite le istruzioni della regione, del sindaco, dei medici. Io vorrei tornare il prima possibile alla normalità, penso tutti. Quindi più seguiamo le norme, prima torneremo alla normalità. E per farlo dobbiamo impegnarci tutti insieme. Ognuno può fare la differenza. Ci vediamo al prossimo video, magari quando torna il Panamera. Scrivetemi cosa ne pensate del coronavirus, sono proprio curioso. Ragazzi, grazie per la visione. Ci vediamo al prossimo video e ci sentiamo su Instagram.